Guarda che si attiva e Lion attiva non è che non scappi dalla morte Ragazzi ho capito che cos'è il microfono Stai zitta che dobbiamo scappare di brutto adesso AAAAAAAH Scappa! Quindi fantasmi e quale faccia? Ma andiamo su Fasmophobia che è il king dei vari giochi per fantasmi Però puoi aggiornarlo tu perchè è da aggiornare eh Ma voi l'avete già aggiornato? Io si Ragazzi abbiamo a che fare col fantasma di Larry Lancaster Che è un nome che non abbiamo mai avuto finora Ma avete visto che c***o è il microfono? Il microfono? Ma che forte! Ma piazzamo dai Ma che serve questo? Oh però va bene Comunque Dovemmo scoprire con chi abbiamo a che fare Dobbiamo rivelare la presenza del fantasma con una candela Io prendo il termometro Candela? Prendi candela e accendino Prendo subito Poi dobbiamo rilevare la presenza con un sensore di movimento Ho io ho io l'MF E l'incenso Oggi c'abbiamo un botto di storia La croce no? No niente croce Solo incenso Sensore di movimento E candela Vabbè io ho preso anche la macchina fotografica Andiamo avanti così Let's go Vi porto io le cose Tranquilli Ma la macchina fotografica è rotta? Non funziona? Cosa in testa vi prego Non devi fare la foto No devi fare la foto Tipo la prima foto Era spenta non accendeva L'altra la videocamera se no Ok andiamo eh ci siete? A sbaglio mi sembra molto più buio del solito No No Ma che serve sto microfono? Madonna mia che paura Non siamo neanche entrati Non siamo neanche entrati Scusate Non avete ragione Ok Posso chiedere l'aiuto di Giorgia per capire cosa serve sto microfono? Si cerca che serve il microfono Giorgia Vi do una mano subito Credo che fosse un oggetto che già c'era Che è stato cambiato di aspetto eh in realtà Dove vi lascio le cose? Eh boh all'ingresso Ma io sono le cose Oh non mi lascio a te Eh guarda questo piano Oh Uh Vaion Non lo so No Oddio Gli hanno sparato non ci piacerebbe la musica Vabbè allora io vi lascio la spirit box Oddio che paura Qua nella garage non c'è niente Non ho fatto sta porta Proviamo a controllare di su Ci dovrebbe essere un piano di su eh Sì sì è di sopra Ah anche di sotto c'è però No Sensori di movimento li avete presi? No Ve li porto io Oh no No Il cerchio demoniaco Non accenderlo Non accenderlo mai nella vita Io l'accentino Dammi l'accentino Ho rettettato Io mi metto nell'armaglietto Non riesco Prendo il tuo coso lì eh Sì Guarda che si attiva E Lion attiva Non è che Non scappi dalla morte Io te lo dico Ho capito che cos'è il microfono Stai zitta che dobbiamo scappare di brutto adesso Ah Scappa Corri Andati alla macchia No 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 Mi sento Mi stanno caricando Fai qualcosa Fai qualcosa Fai qualcosa Ho chiuso la porta Gliel'ho chiusa in faccia Dove si esce? Lincenzo usate lincenzo E' andato via E' andato via E' andato via E' andato via Va bene ma ho poca sanità Mi sa che Usate l'interruzione Forse quello potrebbe essere Mamma mia Mi hai bagnato addosso Cosa c'è? Un microfono bidirezionale Sì è quello E' mea che serve E' Serve Mamma mia che paura Ha preso a me Ha preso a me No qua siamo morti tutti in un petto secondo Anna Aiuto Ha fatto forte questo fantasma Tutti siamo morti Non è rimasto più nessuno Tu non sei riservita a niente Potevi dire Oh uscite Guarda se sta succedendo il male Oh io te l'ho detto Esci Sparo queste Antipazia E mi doveva prendere a te Perché ha preso a me Eh perché Io adesso vorrei capire tu Per quale oscuro motivo Hai usato quel cerchio Così Ma l'ha detto strecato E' vero Io ho detto che avevo l'accendino Anna questa volta è colpa di strecato Perché l'ha vizzato Gli ha detto che c'era l'accendino e l'ha acceso E' stata una forte tentazione Laio un poverino Non c'entra nulla Grazie Alex È colpa di strecato No Alex voleva riprendere i punti Dopo che strecato Mi ha detto Che era il mio colore Quella con una maglietta Io t'ho buttato lì Il sensore di movimento Dai Laio ma cosa fai Continui a giocare Ma puoi ritornare Dai non rientrare Cambiamo casa Sali su Sali su Abbiamo ancora tempo Così recuperi anche le cose Non le perde Dai Cambiamo contratto Questo è andato male Potevamo mettere un fantasma a caso Però Il microfono bidirezionale Vi serve per localizzare il fantasma Perché con quello Ho riuscito a sentire i rumori Che fa il fantasma Ah bello E la direzione Ma dobbiamo piazzarlo Giusto? Eh sì No lo devi tenere in mano Mi sa Esatto Devi tenerlo in mano Allora Signori sono pregati Di prendere quelle telecamere Che sono lì da testa E mettersele Io l'avevo messa Anna Infatti tu sei bravissimo Loro fanno schifo Grazie Dunque Facciamo finta Che prima Non è successo niente Buonasera signori Oggi abbiamo a che fare Col fantasma Di Andrew Baker Allora vi dico io Lo sa prendere però Qui non entro io Lo dico io E te te metti lì E ascolti bene Apri quelle orecchie Oh e muoviti Bazzana Dobbiamo avere Una fotocamera Per fare una foto al fantasma Faccio finta Non averti sentito A me piace fare la foto Ho detto Bazzana Non vuol dire nulla E tu sei uno zotico Quello vuol dire Dobbiamo purificare l'area Nei pressi del fantasma Usando l'incenso E raggiungere una salita Non ci credo Mamma mia Ma questa tua Madonna Me l'hanno chiesto in chat Allora Il mio rispiro è Strecato Allora Strecato prende la fotocamera Raga Eh Devo entrare con voi Perché Oh no La sanità mentale Sotto il 25% Vabbè dai Anna Prendi anche tutti gli oggetti Let's go Allora Strecato prende la Alex Incenso E accendino E la croce serve Anna Eh no No Io mi divertirò con la spirit box Allora io prendo il termometro Alex prende l'MF Chi ha preso la fotocamera? Non posso prendere tutte le cose Dai io ho l'incenso e l'accendino Qualcuno le prende Alex Alex No È esploso mi sa Abbiamo termometro MF Devo prendere qualcosa È uno slot Io ho l'MF Io ho il termometro Andiamo La torcia Un libro No dal fatto che è tutto in legno no Vi prego Io non voglio morire Vi prego Spiffer i brutti Aspettatemi Sto arrivando Cosa c'è qua? Un giornalino La notte non voglio proprio dormire io eh Questo giornalino parla di fiori Mamma mia Madonna L'hai vista? Che città? Cosa hai visto? Cos'è? Non è la carta moschicida Alex Ah va schifo È strecato si chiama Riprendi Alex che è cattivo con me Allora le luci sono staccate Sarebbe bello poter accendere Attenzione ci sono pochi gradi qui eh Quanti pochi? Eh 5 4 Quattro da pochi eh Come avevo detto che si chiamava il tipo? Non mi ricordo Andrew Baker mi sembra Ah deficiente No che arriva adesso Perché lo leggi? Stupido Perché l'hai fatto? Perché? Maledetto Tonto A te non bisogna portarti No e qui ti esce è inutile Non è vero è utilissimo Alex Ma qua c'era il coso di accendere le luci Ma si esce da ovunque in questa casa eh Tutta una porta Ci sono anche degli armadietti qua Pensa Comunque deve essere terribile avere più porte di uscita in casa Ma sento panico? Cioè così non sai mai Cioè se senti un rumore devi controllare tre porte Ma fatti io avrei l'errore di andare a dormire senza controllare tutto Questo ti indica l'entità della casa Significa che tu hai più bisogno di uscire che di entrare Un'altra Baffa No usciamo Andiamo di sopra Di sopra Andiamo di sopra Di sopra andiamo a noi Sarà sicuramente lì questo marpione Papà 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 non voglio morire Mi sta nascondendo da voi Mi sta entrando con voi Eh questa porta si è mezzo aperta Eh l'ho vista di brutto Non dovremmo entrare in questa stanza C'è anche un ascia Oddio guarda un ascia contro lo specchio Faccia un altro piano pure Oh Hai visto? È il postaiolo Mamma mia E altre carte non ci si Qualcuno qua ci ha preso la mano Alto che chat Questo sei tu Non è vero Sai che dovremmo mettere quella cosa che con i beats si fanno i suoni paurosi Così mi viene l'infarto E non vengo più Ecco mi sono mozzicato la guancia prima e mi fa male Perché è stato di sta bene però eh No Ma è È uno specchio che non riflette Mi fa un po' paura Tutti non riflettono Ma c'è un'altra porta che non è stata aperta Strei è un vampiro Lo volevo dire anch'io Però non lo è perché non luccica I vampiri Questa cosa l'ha ferito nell'orgoglio di brutto Eh sei opaco ormai Sei opaco Un vampiro opaco Vampiro opaco della Eh Basta Lucidati Ma non abbiamo trovato nulla di strano Ma non c'è neanche un punto freddo eh Posso accendere il contatore? Eh accendendolo che vuoi Sì magari se lo spegne Sì l'abbiamo ancora lì più Credo che l'ho acceso Sì sì se è verde sì Sì E però non Ma non c'è nulla di strano È un po' timido C'è tipo una bambola voodoo Una tavola waija Waija E anche i tarocchi Eh no I tarocchi non ci sono mi sa E piazzano in qualche punto strategico Non piazzano Ah vedi mi sa che l'hai piazzato Si vede qualcosa Senti ma si vede mica Se abbiamo Hai purificato l'area eh L'hai purificata Dobbiamo fare la foto E raggiungere la sanità mentale Sotto il 25% di media Allora io prendo qualcosa Per vedere sulle porte La luce uv Così Io ho l'MF Ma non ho mai fatto Oh Che è sta? C'è stato qualcosa Tu sorella 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 È morto stre Tu sorella Una gran vacca Oddio Oddio Stai zitto Ma non sta più No raga No raga Era vicino a me Era vicino a me Ha iniziato a fare Oh oh E poi ha fatto Ma non sta iniziato Che lo sta a fare Di nuovo Mamma mia Che infarto Sta attaccando Raga la porta Potete scappare Scappate Ok Non fanno nulla Non fanno nulla Nasconditi Pezzo di Questo qua è stato Maledetto MFA4 Non so se vuol dire qualcosa Ma che sta Chiude la porta L'ho chiusa io L'ho chiusa io Nessuno deve entrare lì dentro È brutto Però non l'ho visto io Alex come si mette La foto Stai a fare la foto Mannaggia a te Che non fai nulla Eh ma non l'ho mai visto Eh non si vede Come si mette il libro Alex Con la F Con la F Che vuol dire Fuoyer I pronti digitali non c'erano Sfera di luce Non lo so Temperature di congelamento Non c'era O è uno yokai Uo c'è un mare Io devo fare la foto Dirò che è un mare Vediamo se abbiamo fatto bene Abbiamo fatto una vacca di nulla Però Stiamo guadagnando qualche soldino Abbiamo purificato Dai qualcosa l'avete fatto Era uno spirito Non può essere che era uno spirito Vaffanbar Dai Fai questo gioco stupido Grazie per essere stati con noi ragazzi Ci vediamo domani Andatevi a vedere i video Mi raccomando Come al solito vi ricordo Punto esclamativo libro Per preordinare Lo scrivete in chat Tutto attaccato Punto esclamativo libro E vi da il link Per preordinare le storie da brivido Il nuovo libro a fumetti Che esce dal 28 di aprile Per oggi Lion out